90 anni portati con sorprendente disinvoltura e una lucidità di pensiero caratterizzata ancora da una graffiante ironia. Ecco Ciriaco De Mita oggi. Dopo la festa per lo storico compleanno nell'attico romano, con i VIP di politica, economia e spettacolo, il leader irpino è tornato nel suo territorio a Lioni per la prima al cinema del docufilm sulla sua vita politica dal titolo eloquente De Mita l'animale politico. Lui davvero non se l'aspettava anche perché dice De Mita la parte dell'attore non mi appartiene. Quando me l'hanno proposto insomma io ero andata a dire no. La parte dell'attore non mi appartiene. Beh lei ha raccontato in qualche modo. Ecco e poi le storie sono sempre complesse. La semplificazione della storia cancella la conoscenza. Viceversa credo che ho recuperato la mia natura perché a differenza di quello che si pensa io in politica ho lavorato per indicare i percorsi. Dopodiché non è che li facessi fare agli altri. Volevo che partecipassero gli altri perché un percorso politico senza la condivisione non esiste. L'età non gli pesa. L'ex premier è arrivato nel cinema nuovo di Lioni accompagnato dalla moglie Anna Maria e dalla figlia Antonia. In fondo con il docufilm a lui dedicato ha chiuso i festeggiamenti per il novantesimo compleanno e c'è stata Ressa in sala per salutare il presidente per le classiche foto ricordo a cui il leader non si è sottratto. La giovinezza non è il dato fisico ma la testa e finché la testa regge si è giovane. Posso dirlo con molta serenità. Io sto, leggo chissà quale motivazione che mi ha portato a fare il sindaco del mio paese. In realtà la ragione principale che avevo intravisto che noi qua in Altirpinia potevamo avere un'occasione di misurarci col nuovo che ci sfugge e sia pure nel silenzio qualche volta nell'ingomprensione degli amministratori perché la miopia degli amministratori è pensare al proprio comune mentre in realtà noi miriamo a fare una larga comunità dove gli amministratori siano in condizione di risolvere anche i loro problemi. La definizione del programma c'è stata, l'approvazione del programma c'è stata, le risorse disponibili ci sono, adesso dobbiamo soltanto realizzarle. L'ex presidente del Consiglio è pronto ad affrontare l'ennesima campagna elettorale, stavolta in campo per sostenere il nipote Giuseppe nel collegio alla Camera in Altairpinia, ma il dibattito politico che si è sviluppato finora non lo appassiona. Anche per questo sceglie di rivolgere un appello ai candidati, basta insulti. Un passaggio elettorale è un po' come il passaggio dal medico. Andare dal medico per insultarlo, probabilmente qualcuno dice mi sottotto lo sfizio, ma non guarisce. Andare dal medico per aiutarlo a fare la diagnosi crea speranza perché il medico possa essere in condizione di guarire. Auguro a tutti i candidati, ce ne sono tanti, di meditare prima di dir parole. Le stupidità che a volte danno l'impressione di segnare in realtà nell'attenzione popolare vengono rifiutate. Anche se qualche volta si divertono, perché qualche volta si divertono, puoi rimarre l'amaro della cosa che non c'è. Mentre la politica deve essere qualcosa che c'è, la grande speranza. L'ho detto, farò una campagna elettorale di riflessione. Non accetto la provocazione. La stupidità è tollerabile in un momento in cui si è ubriachi, non alla mia età. Io alla mia età è come se guardassi il mondo dall'aldilà, io sono già dall'aldilà e guardando mi rendo conto che non sempre la gente si rende conto della realtà in cui vive. Aiutare la persona, ma le persone, ad avere questa consapevolezza è il primo passo avanti per poter risolvere i problemi. Io se ho la fortuna di avere un nipote intelligente non riesco a capire, perché gli altri che hanno i nipoti cretini sono candidati incredibili. Di andare al Senato, nella mia idea, era una cosa da evitare, perché il dibattito politico era la Camera allora. Adesso il dibattito non c'è né alla Camera né nel Senato e quindi la scelta. Il ruolo del Presidente della Repubblica, paradossalmente anche alla mia età, non ho io la prudenza della meditazione, il parlare quando è opportuno. Io ritengo di parlare quando ne ho voglia, quando riesce e con questo tipo di organizzazione quella funzione no. Io ho fatto quasi sempre l'opposizione nella democrazia cristiana. Da quando io sono entrato sono stato sempre all'opposizione. L'ho fatto in un certo senso anche quando ero segretario del partito, non che fossi contro di me. Pur essendo segretario del partito rombevo ingrostazioni, ho creato diverse posizioni. Qualche volta ci siamo riusciti, qualche volta no. L'esperienza, ho fatto piacere che l'hanno ripetuta, più bella che io abbia avuto è aver ringrociato, perché il merito non era mio, aver ingrociato il grande sconvolgimento mondiale quando io ero Presidente del Consiglio. Perché è una cosa che, ripeto, sentirsi dire dal capo del comunismo mondiale che l'uomo senza spiritualità, che cos'è, significa correggere, correggere la visione materialista. Quando riferì al Papa, lui era meravigliato, era meravigliato di questa cosa che era avvenuta. E devo dire che in un certo senso è stato un peccato, perché l'Europa, credo che non abbia ben compreso quello che stava avvenendo nell'Unione Sovietica e ha accettato la successione di Gorbaciov e in realtà, insomma, la Russia è diventata potente, ma con lo sguardo rivolto indietro, non con lo sguardo rivolto avanti. La storia, insomma, continua, ma almeno ora c'è un documento che racconta 50 anni di vita politica vissuti da protagonista a confronto con i grandi della terra. E io ho chiesto a Gorbaciov l'idea di incontrare Mitterrand. Io sapevo che era Falcone i giorni del rapimento Moro. Berlusconi, trovo abbastanza ridicolo che uno che ha raggiunto una certa età non abbia titolo a parlare. Dietro la figura del politico c'è sicuramente un uomo che ha forti passioni, forti sentimenti e credo che in questo prodotto si possa intravedere, un occhio attento possa vedere appunto come timidamente alcuni ricordi così riservati, così tenuti gelosi, poi alla fine si siano svelati nel corso di una narrazione che speriamo sia scorrevole, agile e piacevole per il pubblico. Oggi sono prodotti rari i pensatori, ma assistiamo, causa anche la crisi di questa seconda repubblica, ha un po' un ritorno non dico nostalgico perché quella fase ormai è archiviata, ma sicuramente ci sono tante le persone che guardando indietro, guardando alla prima repubblica pensano che forse troppo velocemente è stato buttato via sia il bambino sia l'acqua sporca. Lui ci ha dato un 6,5 ha detto, perché sappiamo bene quanto è esigente, quanto richiede insomma da sé e dagli altri e ovviamente era impossibile proiettarlo senza che lui lo vedesse perché fremeva e insomma lui ha l'esigenza comunque di tenere sotto controllo tutti i processi, insomma da uomo politico qual è, da persona che è stata sempre al vertice e noi insomma non abbiamo avuto problemi, anzi cercavamo questa collaborazione da lui perché ovviamente un prodotto del genere biografico senza la collaborazione del protagonista piena rischia di essere monco oppure comunque di non svelare tante parti che invece così spontaneamente si sono aperte a noi. Tutti i suoi 90 anni sono un diciamo una bellissima esperienza ed è stato veramente un racconto molto complesso, sembrava facile ma invece si è risultato un prodotto molto intenso, ricco di spunti di riflessione, veramente molto interessante. Avevamo da un bel po' di tempo in mente di insomma di raccontare la figura di De Mita perché comunque fa parte della storia della nostra nazione. Essendo poi nostro conterraneo ci faceva molto piacere raccontare la sua personalità. Quello che a me personalmente affascinava molto è pensare che Ciria De Mita fosse partito nel 1928 da un paesino nusco dell'Irpinia per arrivare a fare il Presidente del Consiglio, per me un grande stimolo per raccontare un personaggio del genere. Non vi sveliamo niente perché effettivamente ci sono molte cose che non ha mai raccontato quindi dopo il film ne riparliamo.